Ciao a tutti e a tutti, eccomi qua con un nuovo video Allora, in questo video vi farò vedere alcune cose che ho comprato per la scuola Altre cose, i materiali che devo portare proprio a scuola Come per esempio a disegno devo portare cose precise Sì, materiali precisi Lo so che ho già fatto un video back to school Però voglio rifare perché voglio farvi vedere quali materiali devo portare a scuola Allora, partiamo dal temperino Non è un temperino semplice, normale Ma è così Sì, è un temperino Non devi temperare una matita semplice ma questa Cioè se la punta, aspettate, ho paura che cadano le mine Allora, se la punta di questa mina è piatta Lo temperi, lo metti dentro e poi giri e si tempera Però ho già provato, è una cosa bellissima sul serio Questo temperino lo adoro Poi ho comprato pure una matita gomma Sì, gomma matita Non so come si dice matita gomma Perché al posto della matita c'è la gomma E al posto del coso della gomma Cioè ci sono alcune matite che hanno la gomma piatta E alcune matite che non hanno E questa matita invece ha questo spazzolino per pulire Quando vai a cancellare l'errore che hai fatto Poi invece qua dentro ci sono le mine Le matite, sì, ve lo faccio vedere Uno l'ho aperto Perché volevo vedere È così Poi ho comprato due quaderni Sì, questo è per... Non mi ricordo neanche per cosa ho comprato Un quaderno per... Ah boh, non mi ricordo perché ho comprato questo quaderno Però mi servirà Penso per disegno Sì, non lo so E poi un altro quaderno Che sarebbe questo Che lo userò per le mappe quando devo studiare Per esempio storia Arte di storia Ah, storia di arte, scusate, mi sono confusa E... eccetera Poi ho comprato Questa... Aspettate Aspettate Questo nastro di... in carta Sì, nastro Cioè, nastro adesivo Di carta, sì Non so perché Ce l'ha chiesto il professore Quindi L'ho comprato E poi due squadre Semplici Poi ho comprato questo album Sì Che è grande quanto me Bellissimo Sì Poi questa cartellina Per l'album Sì Per disegni Che farò In questo anno di scuola Anno scolastico Allora Quando sono andata Alla cartelleria Mia madre era invidiosa Perché aveva Cursi materiali Sì perché 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 le piace l'arte Infatti Io ho detto Oh Io ho detto Ma perché Non hai scelto Il liceo artistico E hai scelto Di fare la dottoressa L'infermiera Qualche sia Le ho detto È Bella domanda E Ora Ora mi vedrà Soffrendo Sì perché È invidiosa Perché ho questi materiali Bellissimi Il temperino è bellissimo Lo dirò centomila volte Sì Il temperino è bellissimo Eppure Eppure La matita Con la mina Che è scatta E poi Poi La cartellina È bellissima E sì E niente Spero che vi sia piaciuto Questo video E E E Non scordatevi Di iscrivervi E Niente Ci vediamo Al prossimo video E Sì